Musica Credo che bisogna avere coraggio di raccontare il paese La realtà è che per esempio sul lavoro 7 ragazzi hanno un lavoro stabile 93 ce l'hanno determinato a mesi E la realtà poi Quindi bisogna avere coraggio di raccontare la verità Le periferie sono un problema serio Come problema serio di questo paese Che secondo me ha ancora molti burka culturali Che che si dica? Per non dire uno che è andato in Afghanistan, in Iraq Quindi gli ha visti burka veri Io ho paura del burka culturale Che ci fa pensare ancora a un macismo violento Alle forme di sottomissione della donna Perché il potere è ancora troppo maschile Ciao